Presa di posizione di Confagricoltura dopo i numerosi furti compiuti ai danni delle aziende agricole della Piana del Sele. Uno stilicidio quotidiano, così come definito dalla stessa organizzazione, che provoca danni ingenti agli imprenditori agricoli, visto l'elevato costo di rimpiazzo dei mezzi sottratti. Di qui la richiesta del presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino, che ha inviato una lettera al prefetto Francesco Russo e al di Salerno, Maurizio Ficarra, affinché si attivino per sollecitare e sensibilizzare le forze dell'ordine competenti.